Carissimi studenti, domande all'esame nella materia che avete all'università, biologia generale. Come sempre vi dico, iniziamo con le più semplici e mano a mano le facciamo più complesse. Va bene, qui poi vi leggete, è inutile che sto qui a dire sempre le solite cose. Mi raccomando, non andate a guardare in Google o in libri, dovete rispondere velocemente, se no non siete preparati, abbastanza velocemente. Anche perché essendo per il momento domande semplici non è che ci sia molto da ragionare. Va bene, qui avete i miei contatti e se avete bisogno dei miei videocorsi richiedetemi. Passiamo alla domanda. Questa è la domanda numero 4. Quale delle seguenti affermazioni sui lipidi è corretta? Mi raccomando, tenete conto che anche queste domande possono farle all'esame orale. Eh, questa è sotto forma scritta è risposta multiple, benissimo, può essere anche un'esame orale. Benissimo. Allora, ragionateci un pochettino, rispondete velocemente, io seleziono le risposte e poi alla fine cerco di darvi le risposte delle prime 5 domande, magari inizialmente, poi andremo avanti. Va bene così? Allora, buon ragionamento, alla prossima. Allora, buon ragionamento, alla prossima.